Le amiloidosi sono malattie causate dalla deposizione di una proteina anomala che si infiltra nei tessuti. Uno degli organi principali colpito è il cuore. Non esiste una sola causa di amiloidosi. Esistono varie forme di malattie con eziologie differenti. È importante per il cardiologo fare una diagnosi precoce e tipizzare correttamente la malattia per intervenire precocemente dal punto di vista terapeutico.